Salve a tutti da Sementiersoft, in particolare da S e sono qui per un nuovo episodio dell'erubica del soldato che ho deciso di anticipare rispetto alla sua effettiva programmazione, perché effettivamente ultimamente ho ricevuto parecchi messaggi sulla batteria, sul reparto batteria. In questo video ovviamente non utilizzerò un gergo tecnico, non mi dilungherò su termini specifici, cercherò di rimanere il più generale possibile, e il più fruibile da tutti quanti, quindi se dico qualche cassoneria immonda, è evoluta, credo, ma è evoluta. Quindi cominciamo velocemente però nello spiegare, prima di cominciare a elencare i pregi di difetti di ogni singola batteria, a capire bene cosa sono quei maledetti numerini e voltaggio mAh e cagatevare. Allora, il voltaggio, la V, 9.6V, 7.4V, 8.4V, sostanzialmente diciamo che indica il motore a quanto girerà, quindi per cui più è alto il voltaggio, più il motore girerà velocemente e quindi sarà sottoposto a usura. Ora, qual è il voltaggio più consigliato? Il voltaggio più consigliato è quello per cui preparate il vostro SG, quindi se voi preparate un SG per una 11.1V di voltaggio, quella sarà la batteria migliore perché è nettamente la batteria con più reattività e con più ROF, che vi garantisce un maggiore ROF rispetto a tutte quante. Se invece avete un fucile non preparato, vi conviene usare una 7.4V. Ora, ho parlato di soltanto di lipo in questo caso, per quale motivo? Le batterie vecchiotte hanno molti difetti, moltissimi difetti. Io le sconsiglio sempre meglio che le utilizzate perché fanno veramente schifo in confronto alle lipo. Ora, durano nettamente di meno, presentano un'accelerazione, ovvero la scarica ed elicità che arriverà al motore non è immediata come nel lipo, ma è graduale. Quindi abbiamo uno 0-100, ovvero 0 dove 0 è lo 0, la batteria non lo ne utilizzo, il 100 invece è la massima emissione di energia da parte della batteria al motore, che ha un tempo X. Questo tempo X può essere 4 secondi, 5 secondi, 20 anni, è indifferente, comunque ha un tempo X. Quindi per raggiungere il massimo di velocità il vostro motorino, comunque avrà bisogno di un TOT X tempo, ok? Che è una cosa consigliabile? No, perché non va bene assolutamente per nessun tipo di fucile reattivo. Siamo capiti fino a qua? È vero che costano di meno, quindi questo sicuramente è un PRO, ed eccezione di carica e batteria che costano relativamente poco, a differenza di lì, ma ce la rinaremo. Quindi, i PRO sono, costano poco, hanno un caricabatterie che costa poco e si trova praticamente ovunque, e secondo me basta, perché sinceramente non vedo altro i PRO di queste batterie, ormai praticamente datate, infatti non credo che qualcuno ancora le utilizzi. Comunque i CONTRI invece sono grandi, quindi ingombranti, durano poco, anche se non le utilizzi, continuano a scaricarsi, e quindi le brutte, accelerazione 0-100 X tempo, brutto, brutte, batteria brutta e bruttata, se ce l'avete bruttata da 6, avete lo so di comprare una LiPo, comprate la LiPo. Allora, cosa sono le LiPo? Le LiPo sono una nuova tecnologia di batteria, nuova, rispetto a quelle lì, sono sicuramente più nuove, dove si sono sentimentate praticamente in due potenze, due emissioni, le 14V le lasciamo, non le voglio neanche prendere considerazione. Ok, abbiamo le batterie LiPo 7.4, le batterie LiPo 11.1. Molti mi chiedono, perché non utilizzare le batterie LiPo da 11.1? Perché sono batterie assassine? Quindi per cui, se non avete fucile decentemente preparato, proprio per girare con la 11.1, super, super sconsigliate. Usate la batteria 7.4. Ma comunque ci arriviamo. Allora, batteria LiPo 7.4V, potenza di emissione decisamente bassa, anche rispetto alla più bassa delle 20.3 di nickel cadmio, che è un 8.4, quella che trovate insieme al fucile appena aperta la scatola, no? 7.4, batteria LiPo. Perché LiPo? Allora, uno, si ricaricano in brevissimo tempo. Due, hanno obiettivo l'accelerazione 0-100? Ecco, praticamente è immediata. Cento. C'è di meno secondo. Fanno ebbene per la reattività? Sono fatte per la reattività. Durano nettamente di più rispetto alle batterie di nickel cadmio a parità di miliampere. Ecco, cosa sono i miliampere? Miliampere è la capacità della batteria, ok? Un serbatoio della macchina. Ecco, i miliampere sono. Più sono i miliampere, più sono i miliampere, più grande il serbatoio della macchina. Quindi, più grande il serbatoio della macchina, più la batteria durerà a lungo, ok? Miliampere è quello. Durano di più rispetto allo stesso miliampereggio dell'indica caldium, perché non si scaricano se non usate. Sì, è vero. Tipo i pignoli diranno, sì, guarda, perché hanno un indice di scaricamento, però si parla di un per cento ogni mese, quindi io lo considero praticamente no. È vero che comunque le LiPo hanno dei difetti, perché ce li hanno. Allora, il costo sicuramente è molto più alto relativamente parlando. i necessitati di caricabatterie adatti, loro, soltanto loro, ok, tendono a buttare, si tendono a gonfiarsi. Infatti LiPo tende a circa a seconda dei cicli di utilizzo che sono, ovvero ogni volta che è ricaricata la batteria, quello è un ciclo di carica, ecco. Dopo un totto X cicli di carica che varia a seconda del modello della LiPo, della marca della LiPo, comunque di mille altri fattori, queste tenderanno a gonfiarsi, letteralmente gonfiarsi. Ecco, quando è troppo gonfia una LiPo, questa LiPo dovrà essere cambiata, perché rischia di esplodere o prendere fuoco, è successo in entrambi i casi e non ve lo consiglio. Quindi per cui, tendono a gonfiarsi, si devono cambiare, quindi si devono investire altri soldi. Inoltre, hanno un particolare difetto, ovvero durante le lunghe partite, ovvero si parla di 24-48 ore, dove si è soggetto a usare molta raffica, molto spanale, comunque il consumo della batteria è molto elevato, ecco, la batteria LiPo quando si scarica, ecco, ce la tiene nel culo, letteralmente. A meno che voi non abbiate un caricatore professionale, che costa 80€ e non so quanti di voi ce ne avrebbero. Quindi, cosa succede? Si scaricano le celle, ogni parte della LiPo, prendiamo più sempre quelle sdoppiate, sono formate da due celle, ok? Se una delle due celle si scarica di una LiPo, ecco, quella LiPo praticamente è inservibile, a patto non abbiate un caricatore professionale. Anche però, anche in quel caso, comunque le batterie LiPo tendono ad avere una vita inferiore rispetto alla loro norma, quindi per cui, sono consigliate LiPo? Si, assolutamente, quali delle due? Le 7.4, le 11.1 io le sconsiglio, sempre, ecco. Sia come le LiPo, sia come le Life, che sono essenzialmente simili a LiPo, nuova tecnologia, nuova emissione, e voltaggio intermedio tra 7.4 e 11.1 hanno fatto 9.9, che è un ottimo voltaggio per fucili preparati, per tutte quelle persone che non vogliono utilizzare un 11.1 e quindi vogliono avere una reattività paragonabile a un 11.1, perché le LiPo fanno una tecnologia particolare che aumenta ulteriormente la reattività, ecco. Se si pregge, se si riflessi, direi LiPo, non cambia praticamente un cazzo, forse la durata è leggermente superiore a parità di milio amperaggio. Ora, manca un punto nel descrivere perfettamente una batteria LiPo, ovvero quella famosa C. Ecco, io ho letto su forum, non ho letto online in generale, delle cazzate immense. Ecco, le C non sono i C che ricarica. No, assolutamente, non è che si è scritto 25C, quello significa che tu potete usare 25 volte, potete ricaricare prima di buttare. È una cazzata immensa. Chiunque vi dica una cosa del genere, spuntateli in faccia. Ora, cosa sono i C? Non ve lo spiegherò nel dettaglio, perché è un discorso complicato, e non ho voglia di dirlo in video, perché non ho voglia, e voi non avete voglia di sentirlo, ma ve lo semplificherò così. Allora, più è alto il numero di C, più botta arriverà al motore una volta che premerete il grilletto. Ora, questa botta che è la scarica, più è alta, più danneggerà un motore che non è capace di assorbirla. Ora, per quale motivo consigliano sempre utilizzare basse C, se non si ha un fucile sufficientemente preparato? Perché la scarica, da 15C in particolare, è quella utilizzabile e sopportabile da qualsiasi tipo di motore. Quindi, utilizzate batterie C con C basse, perché altre non vi conviene. Ora, cosa cambia da basso e alto? È semplicemente la reattività, la scarica, il quanto ci mette rispetto al millisecondo, si parla dei millisecondi qua, a arrivare al massimo in motore. E quindi, vi parlo di millisecondi, è letteralmente indifferente, secondo per quanto mi riguarda da fare un'esperienza, di avere un 15C o un 30C. Quindi, vi consiglio, ripeto, il 20C, che è proprio la perfezione, nel mio caso. Io cerco sempre batterie LiPo da 7.4 da 20C. Ora. Ricapitolando bene, qual è la batteria che io consiglio sempre? La batteria da 7.4, perché è quella col voltaggio minore, con tutti i fucili, anche un Jim Jones mega sfarsone, tirato fuori dalla scatola, la reggerà perfettamente. Anzi, reggerà meglio quella che la batteria da 8.4 Volt, provatevi la potenza in generale, che ha nativamente dentro la scatola, ora, 7.4 Volt. I miliamperaggi, a seconda di quanto voi sparate, vi consiglio di prendere il vostro miliamperaggio. non è che 1100 mAh di una batteria LiPo durano pochissimo, anzi, durano veramente tanto, si parla secondo me di circa 2000 pallini sparati, che sono veramente tanto. Quindi tenete conto che una batteria da 7.4, 2002, tenuta perfettamente, vi potrebbe anche permettere di sparare una cosa tipo 7.000 pallini. Ora, sono numeri molto indicativi, non potenti come verità assoluta, tipo la Bibbia, ma avete un'idea più o meno di quanto vale un miliamper. Ora, quanti C? 7.4, io consiglio sempre il 1.500 mAh, e un C di 20C, secondo me, viene eretto da qualsiasi fucile. Un fucile preparato per girare con una 11.1, il famoso 11.1 red, io non consiglio mai la 11.1, perché ripeto, sono batterie assassine. Quindi, che batteria consiglio? Consiglio una Life, da 9.9, in miliamper, scegliete di nuovo, non mi interessa, con anche un 25 di scarica, quindi 25C. Perché? La Life assicura un voltaggio alto, quindi una relatività, soprattutto per il colpo singolo, fenomenale. miliamper, indifferente, e il C è la reattività immediata del fucile. Quindi, se giocate, fatemi il sim, vi consiglio una batteria lipo, sempre, perché assicura una reattività da colpo singolo impareggiabile. quando consiglio la 11.1, quando si ha un fucile preparato, non sufficientemente preparato, creato apposta, quindi tutti i componenti interi devono essere totalmente cambiati, si utilizzano pallini super ottimi, ma soprattutto non consiglio mai la 11.1 a quelle persone che sono come ti, che sono dei cinghiali, perché consiglio la 11.1 non solo a quelle persone che utilizzano soltanto il singolo, perché comunque la 11.1 offre una reattività della risposta della relazione singola, ovvero del colpo singolo, impareggiabile. Ora, con questo io ho finito, spero che abbia spiegato tutto nel dettaglio, in maniera fruibile da qualsiasi persona. ripeto, non mi sono fermato, dilungato, dato nel preciso di ogni singola cosa, perché non sarebbe stato fruibile dalla massa, e quindi se è detto qualche cassoneria è completamente voluta, ho voluto generalizzare magari aspetti un po' più complicati, definiamoli così. Quindi, da essere tutto, non vi ho detto alla pappardella, spero che questa rubrica del episodio vi sia piaciuta e alla prossima. Ciao ragazzi, stay angry, stay birro. Non so se... è un altro stock, o ma... Si, probabilmente va a culo, quindi non possiamo definirlo come difetto, perché non ho trovato in entrambi, però è un difetto su questo, quindi, oh ragazzi, può succedere che troviate quel pistone, o un pistone decente? Se piccate quello ve lo piccate nel culo, c'è proprio l'agra. Non c'è neanche dichiarato che è un sconso. Grazie. Spaccato uno schermo di un iPhone, grazie, è la vostra scelta, ovviamente più lungo è, meglio è. Al suo interno il forno assorbente che mettono di solito non è che sia di più incredibile qualità. Quindi sinceramente io vi consiglio di fare una cosa del genere. Se avete, sotto il risultato, il silenzatore come aumento della lunghezza della canna interna, inseriteci all'interno una molla di quelle che comprate tranquillamente per le vostre stagioni per riportarle. Grazie. Allora,